benvenuta a nonna blu in piazza santi apostoli 8 maggio per la libertà vaccinale la libertà cherapeutica eccoci facciamo un applauso che anche lei ha voluto portare e vuole portare la ho desiderato farmi chiamare nonna blu perché il nome che da 26 anni mi distingue e che mi è stato dato dalla mia prima nipotina esclusivamente perché il nome di battesimo era celeste e quando mi presentavano come mamma celeste o signora celeste mi facevano modestina visto che la mamma celeste la signora celeste è veramente solo quella del cielo e non con di me povera peccatrice come tutti anche la piccola chiamata a dire il nome della nonna ha detto al nome di un colore e guardando fa sì sì blu blu perché piccola prima dei tre anni non conosceva gli altri colori e il blu era il blu era il cielo il blu era il mare presentatemi vi dico che sono qui perché ho provato un grande dolore e ormai da oserei dire decine di anni soppro perché ho 88 anni sono alla vigilia del compimento di 88 anni e voi battete le mani ma sapesse il dolore che provo nel vedere l'italia in modo particolare la mia patria la vostra patria la nostra patria ridotta come è dove ho vissuto la seconda guerra mondiale